Don Roberto, sesta teologia, avete posto al Papa una domanda anche difficile, avete parlato della speranza e avete detto come comportarsi di fronte a situazioni anche che coinvolgono il clero, che parlano di situazioni di abuso e cose simili. Il Papa cosa vi ha detto? Il Papa ci ha ricordato sostanzialmente in chi radicare la nostra speranza, di radicarla proprio nel Signore Gesù e insieme a questo ha ripreso anche degli inviti che già altre volte aveva rivolto ai sacerdoti e quindi anche a noi seminaristi in cammino. L'invito soprattutto a non essere dei funzionari ma ad essere davvero dei testimoni, degli uomini che annunciano il Vangelo innanzitutto, che si fanno vicino alla gente e che appunto portano la gente a lui. E si dimenticano della logica dell'io ma sempre lavorano per una logica del noi appunto, della comunione. Vi siete sentiti coinvolti in questo clima apparentemente familiare, eravate più di 300 seminaristi, una grande famiglia. Sì, una grande famiglia accomunata poi dal stesso desiderio di donare la vita a Cristo, da preti, c'era anche con noi i nostri Vescovi che ci accompagnano. E certamente anche sulla scorta della domanda che abbiamo fatto al Santo Padre ci incoraggia in questo cammino anche difficile l'esempio di Papa Paolo VI che da domani venereremo come santo. Il fatto che anche lui nel suo pontificato ha dovuto sopportare anche tante difficoltà e l'ha fatto con grande fede. Questo ci incoraggia certamente nel nostro cammino. Grazie.